Questa è la versione corretta di come affrontare il putrido. Il vecchio video sarà classificato nei fail. Allora, noi dobbiamo andare qui. Ecco qui. Perché andare qui? Perché qui c'è il mitico Luca Tierney, pronto ad aiutarci. Direi che abbiamo esaurito i dialoghi. Tra l'altro qui... Ah, qui arriviamo qui ma noi usiamo l'osso ritorno perché... non vogliamo perdere tempo. Come sta? Come sta? Ma che c'è stato a fare? E ora... Spostandoci al secondo falò... E la mettono? No. Avremo il segno per Luca Tierney. Consiglio di evocare solo lui perché... eh no, io lo rimando indietro, scusate. Ho sbagliato una cosa. Dov'è il cristallo di separazione qua? E' l'inventario. Ciao Luca Tierney. Ciao Luca Tierney. Però ti rievo, non ti preoccupare. Perché finalmente... possiamo usare il vortice dell'anima. Evochiamo l'upte. Cambiamo anello. E andiamo, proviamo. Grande Luca Tierney. E' so cool. Cool, it's good. Giustamente, l'ha scrivato. E' un'opzione. Luca te, però... io ti ho chiamato per un motivo. Prendere mazzato a posto. Bravo. Andiamo con Vortex dell'anima. Animaccia sua. Che fa solo questo. ho sprecato la vita di Luke Tierney. In maniera infima. Vuol dire che questo sacrificio non verrà l'alimentare. l'alimentare. Io ora ho questo anello che mi toglie un sacco di vita, che... ecco qui. Ed è l'ennesima morte. Vai, vai, vai. L'odio. Questo boss, l'odio. Come l'ho affrontato su Xbox senza morire? Non mi ricordo. Mi ricordo che usavo sempre l'arco. Per quanto riguarda Vortex, delusione totale. La lancia non la posso usare. No, la corpo a corpo è un suicidio. Ci vorrebbe Talcus. Per quanto riguarda Vortex. Proviamo così. No, ma Luke Tierney ha avvelenato. No. Eh no, dai. Io come lo curo a Luke Tierney. Non puoi. Neanche un miracolo. Ma col miracolo pure lui ne approfitta per bere però. che sta sotto gli schiaffi. Non credo se la parra resiste. come voleva si dimostrare. Come voleva si dimostrare. Skill è la mia attuale. Con il mio attuale set, scusate. Eh che era quello? Uno socco di Richard. Ah, ha fatto la... Fa tipo la stoccata. Come se si era una piccola. Oh. Forse si può schivare? Questa no però. Eh no. Forse ho scoperto che... ...i colpi di mannaia si possono schivare. Ecco. Eh eh eh. Eh eh. Per quanto riguarda Fraps... ...è un programma di Marta. Mi ha consumato lo spazio del hard disk, non mi ha avvisato di un cazzo. E non vi ho fatto finire come ho ucciso il boss. Però io comunque ho scoperto che si potrebbero schivare. Vabbè, al New Game più... ...mi farò vedere il boss. Mi sento da fottere, cazzo. Eh eh eh. E ora abbiamo finalmente tutte e quattro di farò la primordiale. Mi spiace per il problema avuto con Fraps e quindi... ...non avete visto come alla big ho fatto il putrido. Forse che mi elogiavo. Da solo, tra l'altro. Stavo parlando da solo. E' il cazzo che si è rotato il sole dopo questo. Si è rotato Fraps. Si è rotato Fraps. Questo video sarà chiamato Si è rotato Fraps. Si è rotato con una maggiore di farò. Ah sto troppo incazzato. Per stasera abbassare le distrazioni. Si è rotato Fraps. Farò la primavera. Sì, sì. Sì, sì. Alla prossima video. Ciao. Ciao! Alla prossima video! Grazie.